Ciao Paolo, questa sulla detrazione fiscale è una domanda che ci fate in tanti. Provo a risponderti nel modo più semplice possibile. Intanto ti confermo che anche quest'anno è previsto l'eco bonus. Potrai detrarre il 50% del costo di acquisto e installazione di tente da sole e pergole su edifici già esistenti. Questo tipo di agevolazione fiscale è valido per tutti i tipi di schermature solari e ne possono usufruire tutti i contribuenti che a vario titolo possiedono l'immobile su cui si interviene. Per ottenere l'eco bonus devi fare quattro cose. La prima è acquistare una schermatura solare mobile, marchiata CE, addossata o attaccata a protezione di una vetrata. Poi, nella causale del bonifico bancario parlante, ti devi ricordare di esplicitare quattro informazioni. Il tuo codice fiscale, il riferimento della fattura che stai saldando, l'indirizzo dell'immobile e questo codice normativo L296-06 e seguenti. Terza cosa. Entro 90 giorni dal termine dei lavori devi compilare online il modulo F della scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari disponibili al sito enea.it. Infine, ricordati di scaricare la dichiarazione del fabbricante del tuo prodotto dal sito gibus e conservala insieme agli altri documenti. Ti ricordo che devi sostenere queste spese nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di quest'anno. Trovi tutte queste informazioni e altre specifiche sul nostro sito gibus.it slash servizi slash ecobonus.